Ed è qui che inizia la nostra storia. Oh sì, oggi è proprio una bellissima giornata. Già, mi sono d'accordo anch'io. Cioè, guarda che bel tempo stamattina. Beh, per me non è proprio così tanto bello. Cioè, insomma, vogliamo un poco di sole. Vabbè, fa niente. Eh, che cos'è questo rumore? Sembra qualcosa di enorme che sta avvenendo qui. Oh cacchio, non ti preoccupare cara, io vado a controllare. Va bene, io ti aspetterò qui. Va bene, cosa strana, sto arrivando a darti un pugno in faccia. Vieni fuori, ovunque tu sia. Sta venendo a prenderti. Tu, 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 tu. Ma, che cosa? E io sono venuto qui per perdere tempo. Ma che scherziamo? Fammi andare a controllare meglio. Il rumore si fa sempre più vicino. Oh, aiuto. Che ne arriva il mio fidanzato? Caro! Oh, mamma mia! Ah, io me ne scappo dentro! Aiuto! Aiuto! Ah, ah, perci, maldizione! Cara, per favore, non mi lasciare! Devo entrare anch'io! Solo un attimo, amore, cerca di aprirla! Presto, cara! L'hai quasi aperta, un ultimo sporzo! Bene, l'ho aperto! Oh no, cara, è troppo tardi! In che senso è troppo tardi? Oh no! 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 Grazie a tutti.